ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato a zodiac una volta tanto uno zodiac che non si chiama super seawolf o meglio in realtà si chiamerebbe anche super seawolf come si chiamano tutti i diver di casa zodiac però non compare nessun dial né nelle descrizioni vere e proprie sarebbe lo zodiac 691 e cosa vuole essere questo orologio qua vuole essere la riedizione del primo diver di casa zodiac il 691 appunto che nacque nei primi anni 50 ora non voglio stare qua a fare la gara a chi fece per primo il diver con la ghiera girevole esterna no unidirezionale bidirezionale insomma nella prima metà degli anni 50 zodiac presentò il 691 che era il loro primo diver appunto in quel caso lì aveva la ghiera bidirezionale ok e lo facevano in due colori bianco e nero due colori bianco e nero questa qua è la riedizione un bel 37 mm duro e puro che io ho scoperto da poco chi avrà visto il video in negozio dell'amico giacomo aveva visto che me lo sono trovato davanti e ho detto lo porto a casa per fare una panoramica e infatti me lo ha messo a disposizione lui la gioielleria pasquali domenici di viareggio che è parte un ufficiale del canale e offre un trattamento di favore a voi che state guardando quindi l'ho preso l'ho portato a casa e ho deciso di fare una simpatica panoramica ora prima di guardarla vi mostro l'orologio del giorno che è anche questo qua un orologio storico a suo modo è il rolex explorer 39 mm di diametro cassa quadrante nero i suoi bei numeri con il chroma light che si vedono bene a differenza di quelli precedenti degli anni precedenti che avevano il 369 in oro bianco no quelli non mi piacciono perché scompari scompaiono quei numeri invece tutto chroma light così è proprio quello che è perfetto per mi piace tanto altro da dire sul 691 non ce l'ho se non che datevi un'occhiata alla panoramica poi ci vediamo qui come al solito per le considerazioni finali togliamoci ogni dubbio andiamo a curiosare tra i risultati ottenuti dalle misurazioni effettuate sul campo diametro cassa 37 mm spessore 12.5 mm ingombro trasversale al polso 43.7 mm interasianza da 18 mm piccolo contenuto mignon siete liberi di utilizzare uno qualsiasi tra questi termini e sicuramente non sbaglierete si tratta infatti di un diver anomalo per i nostri tempi ma che ricalca in pieno lo stile dei primi orologi da sub quelli degli anni 50 sto calcando la mano in quanto in realtà si tratta di un 36 mm sì perché i 37 sono stati presi alla ghiera mentre il corpo cassa è leggermente più contenuto risulta palese che si tratta quindi di un segnatempo che farà la felicità degli amanti delle taglie piccole di chi ha un polso minuto e di chi vuole indossare misure che richiamino gli stilemi di un tempo sul mio polso da 19 cm di circonferenza non è adatto o per meglio dire non fa per me non me lo vedo proporzionato tra le altre cose c'è anche da tenere in considerazione la misura lanza quei 18 mm che sono sì perfetti per le proporzioni generali ma alquanto sottodimensionati per un polso come il mio resta il fatto che vuole ripercorrere la strada del primo modello ed è quindi così che deve proporsi al pubblico in maniera discreta e con una casa dal design semplice ed essenziale che va a delinearsi lateralmente senza soluzione di continuità non ci sono infatti pieghe a determinare le anse né biselli tra lato carur e dorso cassa tutto alquanto essenziale e a finitura opaca una spazzolatura verticale sul lato ed una longitudinale sul dorso un insieme di caratteristiche estetiche che viene poi enfatizzato dalla scelta di utilizzare una ghiera in acciaio che vede anch'essa una spazzolatura concentrica dal sapore artigianale ed è proprio questo aspetto total steel che fa presa su di me ultimamente sono abbastanza invaguito da questa configurazione e ci sono sempre più case che la propongono se poi come in questo caso i numeri e gli indici sono incisi il gioco è fatto si crea quella piacevole sensazione di profondità percepibile sia alla vista che al tatto a livello funzionale invece occorre sottolineare che si tratta di una ghiera unidirezionale a 120 scatti e che ha la particolarità di essere retrograda ciò significa che sulla sfera minuti va collocato ad esempio il 15 e che il termine dell'intervallo lo si avrà una volta che la lancetta minuti avrà raggiunto lo zero ossia il triangolo una sorta di conto alla rovescia la manovrabilità è ottima grazie al fatto che straborda rispetto alla cassa mentre per quanto riguarda la scorrevolezza si pone nella media noti stati di molto migliori detto ciò c'è poi un elemento da non sottovalutare e che caratterizza fortemente l'aspetto generale la corona di carica l'assenza delle spallette di protezione è già di per sé un fattore qualificante dello stile scelto ma è decisamente l'originale sagoma a cupola a rappresentare un qualcosa di poco visto da notare che è presente uno spessore solidale alla testa il cui compito è quello di tenerla distante dal corpo della cassa il motivo farla uscire dalla proiezione della ghiera in modo da poterla manovrare comodamente questo perché si tratta di un orologio a carica manuale e la corona verrà adoperata frequentemente e qui c'è un piccolo ghippo sì perché la carica manuale e la corona vite messe assieme possono rappresentare sia un fastidio che una possibile fonte di guasto ogni giorno occorrerà svitare caricare e riavvitare e alla lunga potrebbe rivelarsi usurante per il sistema filettatura il calibro responsabile di tale misfatto è l'stp121m dove m sta appunto per manuale stp è l'acronimo di swiss technology production casa svizzera facente parte del gruppo fossil il cui calibro di punta era l'automatico 1.11 dico era perché a gennaio 2023 è stato dismesso e sostituito dal 1.21 la cui versione manuale è in dotazione a questo zodiac si tratta di un calibro con architettura simile a letta 28 24 esattamente come il sellite sv200 o il soprodo p024 tutti i movimenti realizzati per poter fornire a marchi terzi un meccanismo da inserire nei propri orologi nella sua versione standard viene regolato su tre posizioni e lo scarto massimo è dichiarato tra lo 0 e più 15 secondi al giorno guardando nel retro non è possibile vederlo in quanto l'orologio è dotato di un solido fondello chiuso riportante in basso rilievo il logo della casa soluzione che mi vede a quanto concorde ma torniamo al lato a e diamo uno sguardo al quadrante chiaramente la riproduzione esatta del modello degli anni 50 ma per assurdo si manifesta come qualcosa di nuovo questo perché essendo un modello poco conosciuto è come se lo vedessimo per la prima volta trovo originale il posizionamento degli indici alternati ai numeri arabi non è certo la prima volta che accade ma la scelta di doppiare quelli a bastone ribalta la scena e rende il tutto meno scontato così come apprezzo i due indici trapezoidali ad ore 12 che come gli altri indici risultano applicati in rilievo ed in acciaio pieno cosa che non accade con i numeri in quanto si tratta di contenitori nei quali è invece presente il super luminova old radium ad accomunarli c'è il fatto che tutte le superfici metalliche sono spazzolate longitudinalmente e al colpo d'occhio restituiscono un piacevole effetto grattugiato che gli consente di sparare qualche riflesso qua e là ma senza quegli scintilli tipici del lucido qui sarebbero fuori luogo allo stesso modo anche lo scheletro delle sfere do ferme risulta apparire con quella stessa finitura opaca vista sopra e il fatto che siano così ben dimensionate rende di fatto il quadrante ottimamente leggibile unica concessione al lucido è il logo della casa d'ore 12 un tocco di frivolo che va a compensare la dimensione ridotta dello stesso per concludere il discorso poi occorre evidenziare alcuni dettagli che potrebbero sfuggire ai più in primis la presenza dei pallini luminescenti sul reo in corrispondenza di ogni indice questa è una peculiarità presente in moltissimi orologi vintage giunti fino a noi e non poteva mancare su questa fedele riedizione inoltre vorrei farvi notare quanto sia sovradimensionata la freccia all'estremità della sfera secondi accertarsi del corretto funzionamento non è certo un problema anche perché al buio restituisce luminescenza e il vederla scorrere è sicuramente utile sfere dot e numeri arabi si palesano con altrettanta baldanza mentre delude un poco la ghiera che si ammutolisce e non partecipa al party per concludere il racconto di questo orologio occorre parlare del bracciale e ritengo realistico asserire che il modello degli anni 50 giungesse con un bracciale simile ma senza chiusura farfalla ho trovato solamente una foto del modello originario con bracciale e pare confermata la presenza della blindatura laterale fissata con i rivetti ritengo verosimile che si tratti di finti rivetti d'altronde sono finti sia su tudor che sul mio oris figuriamoci qua nel complesso si tratta di un bracciale di eccellente qualità spesso il giusto e completamente spazzolato per tutta la sua lunghezza la sua vena vintage è accentuata dal fatto che va rastrebandosi dai 18 delle anse ai 14 della chiusura conferendogli quella composta eleganza propria dei tempi che furono eleganza confermata dalla pulizia di linee che deriva dalla chiusura a scomparsa e dal logo bene in vista per contro manca la possibilità della regolazione fine a livello funzionale segnalo poi la comodità delle spring bars a sgancio rapido una implementazione moderna che non snatura il concetto dell'orologio possiamo tornare presa diretta per le considerazioni finali le spring bars a sgancio rapido non vanno ad inficiare lo spirito retro dell'orologio no sono una giunta moderna ma è sotto tecnologica nascosta è ben venga è comoda se uno volesse mettere un cinturino aggiuntivo da 18 perché stretto ciò che invece snatura un pochino il suo spirito è la chiusura farfalla direi no non sarebbe stato forse meglio una bella chiusura scatoletta anche con i forellini di regolazione in vecchio stile proprio per completare lo spirito retro di tutto questo bel 691 secondo me sì invece c'è la chiusura farfalla e vi beccate la chiusura farfalla poi il discorso volevo fare un discorso a livello del calibro il stp 1 21 m rispetto all's stp 1 11 non cambia molto lo hanno introdotto nel 2023 la cosa la maggiore differenza rispetto all'1 11 è che nell'1 11 utilizzavano per l'80 per cento componenti realizzate in svizzera per il 20 per cento all'estero estero si intende sia cina sia potrebbe essere anche un qualsiasi altro paese dell'unione europea all'estero con questo qua è il 95 per cento di materiali svizzeri di elementi svizzeri perché perché hanno avuto delle difficoltà c'è stato quel periodo che dalla cina non arrivavano materiali no si è fermato mezzomondo per delle problematiche anche esterne e non volendo dipendere troppo dalla fornitura estera hanno deciso di aumentare il livello di il numero di pezzi fatti in svizzera in modo da poterli controllare meglio la produzione è 95 per cento hanno diminuito la riserva di carica 41 ore rispetto alle 44 del modello precedente per permettere all'orologio di aumentare la precisione evidentemente con il 44 ore di riserva di marcia non riuscivano ad avere un range un pochino più ristretto con questo da 0 a più 15 direi che è buono carica manuale ecco a proposito carica manuale 12.5 mm di spessore ma si poteva fare meglio visto che un carica manuale io penso di sì poi non sono non sono un progettista un tecnico ma vi vedo che solitamente con un calibro manuale si riesce ad essere più sottili qui siamo a 12.5 non che ci sia niente di male perché un diverino e ci sta tutto però 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 l'ultima ultimo punto debole è la corona di carica qua abbiamo visto che è manuale e con la corona vita e quindi ogni giorno devi fare trintruntrintran svitarlo caricare e trintrintrintran riavvitarlo alla lunga romperà le scatolina la filettatura domanda tanto più che non è così perfetta la la corona nel senso che il termine tecnico è che si struppa e si instruppa nel senso che quando la estrai prima di raggiungere la posizione finale a volte la perde devi devi riprenderla anche riagganciarla questo perché perché in mezzo c'è la posizione fantasma per la scatodata hanno lasciato la posizione fantasma quindi ha tre posizioni questo calibro qua 123 e però a volte non aggancia bene quindi c'è già già c'è un po' da tribolare agganciarla per fare ruotare le sfere poi a filettatura carica manuale fate un po' voi se può essere un minus o un plus secondo me un buon minus però se l'orologio piace e tutti questi punti deboli vengono bypassati perché un diver da 37 mm con cassa da 36 così bellino perché bobellino non è che c'è tutta questa scelta in giro è poi una menzione è una menzione particolare abbracciare con questi finti rivetti qua mi piace ora voi aspettavate che dicessi sono finti no no a me piace invece come piace sul mio tudor sul mio oris tu non ce l'ho sul mio oris diver 65 mi piace l'oxa blindatura laterale veramente old style poi il resto l'orologio è bello la ghiera in acciaio con questa lavorazione concentrica mi piace come su tutti gli orologi come sul mio orient maco che ho preso piace l'aspetto è anche originale una sua certa identità va a replicare il primo modello di casa zodiac e se non possono farlo loro chi lo può fare possono fare benissimo quindi orologio adattissimo a tutti coloro i quali hanno soldi da spendere chiaramente perché millenove non è che te lo regalano ma che vogliono un bell'orologino piccolo di zodiac compatto che poi sono non sta tanto bene ora mi sono riguardato le immagini poi tanto tanto potrebbe anche starci quando vedo delle immagini mi dico ma non sta bene forse perché ingrandiscono quando vedo il polso io qua così to anche rispetto al 39 non per me non va bene per chi ha mai gli orologi contenuti è un polso piccolo va benissimo io ragazzi più di così poi non posso dirvi cioè vi ho letto l'orologio ve l'ho presentato ve l'ho raccontato e ora basta ora devo andare a vedere i gattini su instagram non è che posso star qui tutta la vita a raccontare gli orologi vi ringrazio per essere arrivati fino a qua spero vi sia piaciuto l'orologio il presentatore e il contesto e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube l'orologio Grazie a tutti.